Gli studenti dell'Istituto Artistico Multipediale del Sequenza hanno realizzato un videoclip. La band protagonista del videoclip è composta da ex studenti del Sequenza. Com'è andata? Che lavoro è stato? È stato un lavoro molto impegnativo, abbiamo dedicato molto tempo, anche ore in extra scolastiche, ma ci siamo divertiti ed è stato un grande onore dedicare il tempo nella progettazione e poi nella realizzazione di questo video con questi ragazzi che a parer mio sono bravissimi e che spero che veramente verranno un grande futuro. Siamo stati sotto l'ala degli ex studenti della nostra scuola che ci hanno guidato tanto in quello che abbiamo fatto. È stata un'esperienza molto formativa, per quanto mi riguarda io da grande è quello che voglio fare, quindi è un'esperienza che rimarrà nel mio cuore e poi anche in quello che sarò nel futuro e per come lavorerò nel futuro. Avete partecipato sin dalla progettazione, però poi avete avuto un ruolo attivo durante le riprese, nel set, nella fase di montaggio? Sì, assolutamente. Ci sono stati assistenti tecnici, assistenti all'illuminazione, assistenti alla registrazione. Avete coinvolto anche studenti che appartengono ad altri indirizzi? Sì, abbiamo coinvolto tante persone, un grande mix, perché all'interno del progetto ovviamente c'era chi si è voluto iscrivere a livello di proprio lavoro, mentre all'interno del video ci sono volti di tutti i ragazzi della nostra scuola di ogni indirizzo che si sono prestati appunto in maniera molto spensierata e proprio divertita alla realizzazione di questo video. Il risultato è stato un videoclip che è già sulle piattaforme della band, quindi lo stanno già vedendo in tutta Italia. È un lavoro completamente fatto dai nostri studenti, ovviamente guidati dai docenti del liceo artistico. È avvenuta questa profonda sinergia fra ex studenti del liceo Seguenza, i quali si sono organizzati in questa bellissima band musicale che sta facendo davvero tanto percorso in tutta Italia e sta facendo conoscere ovunque, e hanno chiesto a noi appunto come liceo di potersi esibire con gli studenti attuali e con la scuola della quale loro qualche anno fa facevano parte.